Allora, non è un giocatore così, può fare una partita in siti dal massimo, non fare dei canestri che poi i giocatori italiani di quella stanza possono fare così di topo. Lui è tanto il contrario di tutto, perché lui sicuramente sperano che oggi sia la giornata del tutto, veramente che cosa diventa la mano, sperano che sia il suo...